Tra le cose di cui si occupa l'Associazione Luca Coscioni, vi è anche la difesa dei diritti che riguardano la salute riproduttiva, quindi la difesa della legge 194, ma nella sua applicazione, cioè la legge che consente di interrompere una gravidanza non desiderata o non programmata e la possibilità di intercettare una gravidanza non desiderata attraverso la contraccezione di emergenza, sono dei diritti che sono garantiti nel nostro paese da una legge che purtroppo ancora oggi viene disapplicata con una grande sofferenza da parte delle donne e sofferenza che non viene capita se non da chi ci si trova. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno del tuo aiuto per continuare a batterci per la difesa di questi diritti e il tuo 5x1000 che a te non costa niente se non la posizione di una firma sul modello della dichiarazione di redditi, a noi invece può rappresentare un grande aiuto per sostenere le nostre battaglie. Dacci il tuo 5x1000 se puoi, grazie. Dacci il tuo 5x1000 se puoi, grazie a tutti.